Eccoci, finalmente è arrivato il momento di annunciarvi le date del nostro stage sportieri che si terranno a giugno il 9, 10 e 11 a Carvico, dalle 9 alle 11 e a Cassinone con la presenza direttamente dall'Ituania di Dario Caglioni che sarà il 13, 14 e 15 giugno. Ragazzi sarà uno spettacolo, sarà una bomba di divertimento, di entusiasmo, sono carichissimo e non vedo l'ora di condividere queste emozioni, di condividere la passione e la gioia del ruolo del portiere con voi, vi aspetto numerosissimi e a prestissimo!